Sanno che cos'è? Innanzitutto l'incontro di oggi che è stato aperto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri perché è stato voluto non soltanto dal nostro ordine ma dal Consiglio Nazionale e dall'Assemblea dei Presidenti delle altre ordini d'Italia. Quindi è soprattutto un segno forte che a livello nazionale gli ingegneri hanno ritenuto opportuno portare all'attenzione nazionale la città della scienza. Quindi è questo innanzitutto il tema principale e soprattutto il simbolo di questo nostro incontro di stamattina. Gli scopi e gli obiettivi sono evidenti dal titolo. Gli ingegneri vogliono mettere a disposizione del Paese, in particolare della città di Napoli, la loro cultura tecnico-scientifica. Noi abbiamo tante idee che abbiamo individuato in questi ultimi mesi per la rinascita del Paese. Credo che siano proposte utili, intelligenti, moltissime a costo zero, comunque tutte sostenibili che consentono di far ripartire l'economia. Beh, è sottolineare l'importanza della divulgazione scientifica nel mondo moderno. Ed è una cosa molto bella che l'ordine degli ingegneri sensibilizzi su questo aspetto del sapere, perché ancora troppo spesso si sottovaluta l'importanza della divulgazione.